Luci, ombre e qualche sorpresa. Si potrebbe sintetizzare così il quadro dell'economia di Eurolandia nel terzo trimestre. Le notizie migliori arrivano dal luogo più inaspettato, Atene. La Grecia è ufficialmente fuori dalla recessione. Tecnicamente lo era già inizio anno, dopo due trimestri di espansione, ma le cifre sono state rese note solo ora, insieme ad un più 0,7% tra luglio e settembre. Noi questa ripresa economica non l'abbiamo vista, solo perché dicono che c'è non significa necessariamente che sia vero. Io spero di sì, ma per ora non si vede. Presto per festeggiare, in effetti. Sei anni di contrazione, aggravati dall'austerity, hanno bruciato un quarto del PIL, ridotto di un terzo i redditi delle famiglie e fatto impennare la disoccupazione. Le cifre possono essere falsate, come è successo in passato, non riflettono la realtà. La realtà non è numeri e cifre, è ciò che si vede in una mensa dei poveri, come questa. A livello complessivo, i dati della crescita della zona euro sono stati leggermente migliori delle attese, più 0,2%. Il traino è arrivato come sempre dalle due principali economie del blocco, Germania e Francia. Ma, ecco la sorpresa, mentre Berlino evita la recessione tecnica con un flebile più 0,1% nel terzo trimestre, Parigi supera le aspettative con il più 0,3%. Queste cifre sono un pezzettino di buona notizia, ma non c'è tempo per compiacersi, dicono dalla Commissione europea. Per rafforzare la ripresa avremo ancora bisogno di politiche decise. Cosa ha contribuito a questa seppur flebile crescita? In Germania la domanda interna è di il commercio estero, in Francia i consumi pubblici e le scorte, una componente assente quasi ovunque, investimenti. L'eurozona ha problemi strutturali e l'unica realtà che brilla la Germania al momento tentenna. Mario Draghi spingerà di certo per un euro più debole e per una maggiore inflazione. Pecora nera del blocco, insieme a Cipro e l'Italia, con un nuovo calo del PIL dello 0,1% dopo quello del secondo trimestre, il bel paese è ufficialmente in recessione tecnica. Si tratta del tredicesimo trimestre consecutivo senza crescita, secondo l'Istat, la quale afferma che l'economia italiana è tornata ai livelli del 2000. La Spagna, al contrario, prosegue la risalita con una crescita dello 0,5%.